La casa sventrata, simbolo della frana, oggi non c'è più. Due ponti sono stati ricostruiti, un altro è stato ampliato. Si presenta così Brienno, cinque anni dopo. Impossibile dimenticare quanto accaduto il 7 luglio 2011, quando sette frane hanno investito il paese. Acqua, fango, massi e detriti hanno invaso Brienno devastando quanto trovato lungo la strada, compresa una casa e lasciando isolato per giorni il centro. A cinque anni molto è cambiato. Per fare il punto sulla ricostruzione del paese e sulla messa in sicurezza della montagna, l'amministrazione comunale ha organizzato una mostra fotografica nella chiesa della Madonna del Ronco e una visita guidata nei luoghi entrati ormai nella memoria comasca. Come i due ponti, quello romanico e quello lago, ormai ricostruiti, mentre al posto della villetta sorgerà una nuova casa. Decisivi per la ricostruzione del paese e anche i fondi raccolti attraverso il comitato di soccorso per Brienno, circa 100 mila euro. Dal 2011 ad oggi però si è lavorato anche per mettere in sicurezza la montagna per un intervento da oltre 1 milione e 600 mila euro, concluso nel marzo 2016. Siamo partiti nel 2012, sono state costruite più di 42 barriere paramassi, è stata messa in sicurezza tutti gli alvei. Il recupero dei manufatti che abbiamo perso nell'alluvione è intervenuta l'amministrazione provinciale con una cifra di 360 mila euro. La convenzione era stata stilata nel 2012, però per i problemi di patto di stabilità sono iniziati solo nel 2014. Un intervento di 360 mila euro più 60 mila euro del BIM e 40 mila del Lance. E non è finita, lo scorso ottobre infatti il comune ha ricevuto 80 mila euro da Regione Lombardia per progettare un percorso rurale che permetta di raggiungere la montagna per una manutenzione periodica e far sì che quanto accaduto il 7 luglio 2011 non si ripeta mai più.